Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video sulla nuova beta della Bedrock Edition. Innanzitutto sono qui col nuovo mantello sbloccato ma anche con la skin di Steve perché siamo in Minecraft Preview ovvero la versione della Bedrock Edition che permette di testare le beta e dove non so se è un problema mio o una roba generale, penso sia una roba generale ma non carica le skin dei giocatori. Detto questo cosa ci facciamo sulla Bedrock, che cos'è una beta per chi non lo sapesse e che cosa è uscito? Siamo sulla Bedrock per provare questa nuova versione che è l'equivalente degli snapshot della Java Edition per chi non lo sa e si chiama beta o preview a seconda dei casi perché va ad aggiungere alcune cosette interessanti e soprattutto registriamo un'ottima notizia ovvero riprende lo sviluppo di Minecraft dopo il mese di luglio che solitamente anche nelle scorse estati credo sia stato il mese delle vacanze ad agosto si ricomincia un po' quindi presto potremmo anche vedere qualcosa a livello snapshot forse presto arriveranno i bundle che devono tornare, sono stati annunciati ormai a giugno e ancora non ne sappiamo nulla. Con magari una sottoversione della 1.21 in arrivo prima del Minecraft Live dove annunceranno la 1.22 peraltro ormai siamo ad agosto, il Minecraft Live di solito è ai primi di ottobre e ragazzi mancano due mesi, cioè sembra stranissimo ma mancano due mesi, due soli mesi. Vabbè diciamo a metà ottobre, facciamo due mesi e mezzo, peraltro ad agosto è il mese in cui negli ultimi anni sono anche iniziati a circolare i primi leak che non sempre si possono trattare perché a volte si va incontro a problemi tipo copyright strike come è avvenuto con il film ma che potrebbero essere interessanti quindi terremo gli occhi aperti e detto questo ragazzi vi invito a lasciare un like per le news, per i video di news e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate, partiamo subito scoprendo che cosa mette questa preview all'interno di Minecraft Bedrock Edition a parte una serie di fix e di novità tecniche per così dire ci sono cose che nella Java erano già arrivate, io vi faccio un esempio su tutti ovvero le barche, quindi barche perché queste sono in ita, giusto quindi cerchiamo una barca e cerchiamo un guinzaglio quindi sappiamo che nelle ultime versioni è possibile legare finalmente le barche trascinare diverse barche con sé, con anche i mob all'interno bene, nella Bedrock Edition anche era possibile fare questa cosa tra l'altro sembra anche più facile da maneggiare la cosa però il guinzaglio si legava al centro della barca e hanno corretto questa cosa facendolo legare alla parte frontale della barca ok, in realtà è un po' bagatello rispetto alla Java ma appunto per rendere l'uso del guinzaglio simile alla Java Edition devo dire che il guinzaglio nella Bedrock è davvero un sacco strano comunque questa piccola novità cambiamento riguarda il programma chiamato Vanilla Perity ovvero ogni tot, soprattutto in Bedrock avviene, vengono aggiunte cose o modificate cose per portare via via le due versioni da assomigliarsi quindi la Bedrock si affianca alla Java e a volte anche la Java va a pescare cose che ci sono in Bedrock esempio, magari un giorno l'acqua colorata della Bedrock arriverà anche in Java chi lo sa? ma ora andiamo sottoterra e raggiungiamo le trial chamber perché ci sono due novità di cui parlare ed entrambe le novità mi facevano sospettare che non fosse un vero aggiornamento perché da una parte ho visto rilasciata un'immagine da parte di uno sviluppatore ed ero convinto fosse un troll adesso vi faccio vedere dall'altra ho visto un video di uno youtuber a cui sono iscritto uno youtuber americano che a volte fa un po' di clickbait e quindi pensavo che l'altra novità fosse un suo clickbait anche perché dell'aggiornamento si è parlato pochissimo è uscito mercoledì questo aggiornamento, questa preview ed è passata molto in sordina quindi andiamo a vedere le due novità la prima riguarda le trial chamber scusatemi se nello schermo ci sono scritte ovunque ma un po' sono i comandi in chat e quello che vedete in cima sono i dettagli tecnici che hai quando usi le preview ma detto questo ragazzi c'è una cosa nuova molto strana all'interno delle trial chamber che adesso andiamo a cercare e che mi direte voi se non vi sembra una trollata perché io pensavo che fosse appunto uno scherzo invece è tutto vero apparentemente all'ingresso di diverse stanze delle trial chamber ora c'è questo che cos'è questo? questo è un cestino è un vero e proprio cestino aggiunto alle trial chamber quando ho visto la notizia ho detto vabbè lo sviluppatore sta facendo uno scherzo aggiungo i cestini alle trial chamber ma che vuol dire? invece sì ci sono i cestini alle trial chamber e come vedete il barile sotto è vuoto ma ha una tramoggia sopra che permette di fare questo ovviamente cioè si va a parte è un po' scomodo però se lancio qui i blocchi vengono assorbiti dalla tramoggia e arrivano nel barile quindi dei veri e propri cestini dei svuotatasche veloci che possono essere utili nelle trial chamber quando vai a luttare tante cose molte cose magari ce le hai già non ti interessano le butti rapidamente prima di affrontare una nuova stanza oppure all'uscita della stanza per prepararsi all'esplorazione del resto detto questo è davvero strano vedere un cestino in una trial chamber penso che potete concordare con me c'è ovviamente un dettaglio che va oltre al discorso svuotatasche ovvero che mettere questa cosa che non dovrebbe non penso esista in altri punti del mondo tipo nelle deep dark city hanno messo quell'area con sotto il grande portale al centro hanno messo quell'area con tutti gli esperimenti di redstone vi faccio vedere che facciamo prima eccoci quindi se andiamo sotto alla zona centrale entrando ci sono queste cose molto strane che cosa sono? sono dei suggerimenti di alcuni circuiti un po' degli esperimenti antichi che però insomma andando a mettere che ne so il libro qui accendi la lampada frecciando questo attivi tutto insomma ti fa un po' comprendere in game il funzionamento di alcuni circuiti e ciò fa parte di diciamo una serie di novità aggiunte negli anni per rendere minecraft comprensibile indipendente dalle wiki quindi tu giocando se arrivi qui riesci a capire qualche meccanismo di redstone se insomma hai conoscenza pari a zero e potresti iniziare solamente da questi sperimenti ad utilizzare correttamente la redstone e quindi in questo senso il cestino tra l'altro qui c'è anche una cesta vuota a caso ma mi sa che sia tutto compenetrato con una mineshaft direi c'è stato qualche bug dicevo il cestino serve a farti capire l'interazione tra questo blocco la tramoggia e un blocco contenitore come il barile e quindi potrebbe insegnare ai giocatori che non ne sanno nulla come utilizzare questa particolare feature che poi è molto utile all'interno del gioco e ora la seconda novità quella che pensavo essere un clickbait perché un po' era un clickbait nel senso che nel video che avevo visto erano presentate un po' come novità in realtà non lo sono esattamente ma andiamo a vedere hanno aggiunto delle nuove icone per i banner pattern i banner pattern per chi non lo sapesse sono questi oggetti queste pergamene che permettono di inserire un particolare pattern all'interno del banner come dice il nome alcuni tipo lo snout sono dei tesori quindi li devi trovare oppure anche il flow o il gaster sono dei tesori delle trial chamber altri li puoi craftare ad esempio mi sembra il mattone tu lo possa craftare o il flower lo puoi craftare con una margherita insomma tra alcuni più rari e altri meno rari questi pattern permettono di aggiungere dettagli ai banner e fare dei banner sempre più particolari ora qual è la differenza la differenza è che prima gli oggetti dei banner pattern erano tutti uguali e hanno creato queste dieci icone diverse un po' come avviene per le shared che non so come si chiamano qui saranno cocci no non sono cocci vabbè insomma quelli dell'archeologia che adesso vado a cercare ok il frammento di ceramica come vedete l'item è sempre uguale ma l'immagine all'interno è diversa quindi i banner pattern vanno a fare ora la stessa cosa probabilmente se piacerà questa novità verrà poi portata anche in java sicuramente per l'organizzazione per una bellezza anche dell'item è molto bello quindi direi approvata mi piace l'item vecchio e un po' mi dispiace se andassero a togliere l'item vecchio che era molto carino però questo aiuta a distinguere quindi è molto comodo detto questo cambia qualcosa a livello pratico assolutamente no quindi ve ne faccio vedere alcuni a caso andiamo a prendere un telaio e ragazzi ogni volta che uso la bedrock edition mi spiace essere ripetitivo essere stancante però mamma mia com'è macchinosa che fatica anche usare la creativa cioè rispetto alla java colorante ma come si chiama tintura tinta si si chiama tinta cioè anche i nomi non riesco mai a trovare niente una cosa incredibile vabbè comunque andiamo a mettere quindi questo il banner pattern va qui e ad esempio vediamo che questo è rimasto invariato la faccia del creeper è sempre quella il logo di mojang e poi anche il motivo a mattoni come poi anche tutti gli altri normali come vedete sono totalmente invariati quindi cambia solamente il design di questo oggetto qui per il resto tutto uguale piccola novità bonus che però riguarda solamente la bedrock edition e rientra appunto nella categoria del vanilla parity quindi andiamo a riprendere i pattern per capire come esempio se passiamo sopra vediamo che questi hanno il nome azzurro questo bianco poi abbiamo quello giallo insomma che cos'è questa cosa è la differenza di rarità quindi sono state introdotte le rarità anche qui dentro il tridente ad esempio è azzurro se vado a cercare la mazza è viola quindi insomma hanno aggiunto le rarità degli oggetti rappresentate dai colori nei nomi l'avevano fatto di recente con la java ora questa cosa è arrivata anche nella bedrock edition e questo quindi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate più che le novità in sé che sono poche e magari non sono entusiasmanti la cosa importante vi ricordo come ho già detto è il fatto che lo sviluppo è ripreso quindi nelle prossime settimane attendiamoci delle novità io starò più vigile per vedere se escono cose interessanti e magari speriamo arrivano finalmente i bundle detto ciò vi saluto ci vediamo stasera in live domani con nuovi video anche oggi sugli altri canali nuovi video comunque quindi un saluto da Eren ciao a tutti ciao a tutti